ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 14 gennaio 2023 siamo già quasi alla metà del mese sono passate le feste ormai le abbiamo lasciate nel scrigno della memoria ed ora ci avviciniamo al proseguimento dell'inverno dicono che nei prossimi giorni arrivi l'inverno quello non più mite come è stato fino a poco tempo fa fino a oggi dobbiamo dire perché ancora temperatura è gradevole vedremo se il freddo purtroppo consentirà di aumentare i termosifoni insomma il valore della temperatura all'interno delle abitazioni ma ancora il problema persiste vediamo subito cosa ci dice l'almanacco del giorno per iniziare la giornata vediamo che oggi si festeggia san felice da nola terzo secolo dopo cristo ovviamente perseguitato e imprigionato per la sua fede san felice affrontò molte tribolazioni fino alla morte fu una vita veramente difficile tribolata affrontò molte molte difficoltà il suo corpo fu seppellito presso la basilica paleocristiana di cimitile fu un santo che ebbe la forza di resistere a tutte le prove che la vita gli mostrò d'innanzi e appunto morì in odore di santità san felice da nola vediamo anche le previsioni del tempo la situazione su tutte le marche mostra un avvio di giornata parzialmente nuvoloso ma con tendenza poi è nelle schiarite via via più ampie sino a celle sereni o al più velati nel corso della giornata i venti sulle coste ispireranno con una tensione media da nord ovest nell'interno invece debole da ovest sud ovest le temperature oscilleranno tra i 4 e gli 11 gradi il mare continua a essere mosso ed ora apriamo il giornale il Corriere Adriatico iniziamo con il Corriere Adriatico oggi sulla pagina di Fano vediamo che si parla di una riunione che si è svolta nei giorni scorsi tra le associazioni di categoria e il vice sindaco Cristian Fanesi assessore alla urbanistica è una delle prime riunioni che si svolgono in previsione dell'approvazione della pubblicazione diciamo del piano regolatore in generale uno degli strumenti urbanistici che dovrebbe cambiare insomma l'assetto della città renderlo più attuale alle esigenze moderne almeno per dieci anni Fanesi incontra le categorie le richieste degli operatori prima della redazione definitiva e dopo le associazioni ci sarà un incontro anche con gli ordini professionali poi via via ci saranno gli incontri nei quartieri sono iniziate dunque queste consultazioni l'assessore ha posto diverse problematiche all'attenzione si è parlato di scogliere si è parlato di viabilità si è parlato anche di coordinamento tra tutti gli interventi che dovranno essere realizzati nella zona di Sassonia una zona importante dal punto di vista turistico vediamo che lì è in atto il progetto della strada delle barche dell'arredo di viale Battisti del cambio di viabilità di viale Dante Alighieri del waterfront insomma tutti questi progetti se non vengono coordinati l'uno con l'altro rischiano poi di creare molti problemi ecco perché le associazioni di categoria sono raccomandate perché ci sia una unità una visione globale di intenti per tutte queste opere si è parlato poi anche di altri problemi si è parlato di arredo si è parlato di sicurezza si è parlato anche di unire un po le previsioni che si fanno nel settore della cultura con quelle che si faranno a pesaro perché il 2024 pesaro sarà il capitale nazionale della cultura quindi un evento importante che attirerà nel nostro territorio tantissime persone e anche fanno potrà beneficiare di questo grande risultato vediamo le altre notizie la seconda apertura dedicata nel dal corriere adriatico riguarda il canale albani il canale albani e da oltre un mese in secca i lavori dell'enel per cui è stato appunto chiusa la chiusa che conduce l'acqua del metauro attraverso il canale avrebbero dovuto concludersi entro il mese di dicembre invece stanno così ancora continuando nel mese di gennaio siamo ormai a metà gennaio ci sono stati però due settimane di maltempo nel mese di dicembre per le quali i lavori sono stati sospesi ecco perché c'è questo ritardo un ritardo però che ha causato dei problemi alla fauna itica a quel poco di fauna itica che era rimasto nel canale dopo che il grosso prima che l'acqua fosse prosciugata era stato trasferito appunto dal enel in altro in altro luogo nel nel lago dei laghi di escavazione che sono vicini a fano però insomma vediamo qui in questa fotografia questi puntini bianchi non so se riuscite a vederli ma sono pesci che sono emersi a galla e sono esanimi insomma mancanza di ossigeno ipossia non un bel effetto quello provocato dai pesci morti lungo il canale albani che poi ieri sono stati prontamente rimossi insomma non sono stati lì a lungo per farsi vedere dai passanti i quali hanno visto la scena con un certo disgusto un certo raccapriccio chiaramente visibile all'altezza del ponte storto il fenomeno ha sul momento riportato alla memoria l'estate del 2017 quando il problema era ben più grave comunque abbiamo visto anche nel notiziario di fano tv come l'assessore assessore mascarin abbia detto che la prossima settimana l'acqua tornerà a fluire sul canale albani la chiusa sarà riaperta e quindi tutto dovrebbe tornare nella normalità ieri è stata presentata invece una bella iniziativa sul polo 3 il polo che ha diversi indirizzi di studio il seneca l'olivetti abbiamo a poi il volta il battisti sono questi gli istituti che hanno diversi indirizzi di studio e che sono confluiti nel polo 3 ebbene la preside eleonora maria augello ha presentato una novità si tratta di un nuovo indirizzi di studio che riguarda la gestione delle acque e il risanamento ambientale una serie di conoscenze quanto mai attuali necessarie sia per combattere il dissesto del territorio e sappiamo come frane smottamente alluvioni hanno veramente creato di grossi problemi nelle 2022 sia per qualificare dal punto di vista ambientale sanitario funzionale i vari servizi di cui l'acqua è protagonista l'acqua serve all'industria l'acqua serve all'alimentazione perché ovviamente l'acqua potabile viene erogata a tutte le abitazioni ma è un elemento importante anche dal punto di vista sanitario appunto per la ricerca i microorganismi ebbene il polo 3 si appresta a costruire una figura professionale veramente attuale e veramente necessaria perché ce ne sono pochissime di queste figure professionali e soprattutto l'ASET è interessata a questa nuova opportunità quindi la via maestra per avere un posto di lavoro è appunto tracciata da questo nuovo indirizzo di studi e la collaborazione c'è stata anche con l'università di Urbino era intervenuto ieri durante la presentazione dell'indirizzo anche il professor Mauro Magnani il patronne delle biotecnologie fanesi un centro di ricerca veramente interessante e soprattutto Magnani ha spiegato quali sono le opportunità che l'acqua fornisce dal punto di vista di tutti i settori appunto dicevo quello lavorativo industriale quello sanitario quello alimentare insomma tutto quello a cui l'acqua è essenziale vediamo anche l'assessore all'ambiente interessata alla vicenda Cora Fattori in questa fotografia insieme appunto alla preside Augello cambiamo pagina e vediamo come a Cartoceto un imprenditore si improvvisa 007 e spia 10 dipendenti non poteva farlo ed è andato a processo caporalato questa è l'accusa high tech ma anche contratti salari e orari di lavoro da sfruttamento un datore di lavoro controllava i suoi operai direttamente dal cellulare questa è la possibilità che offre la tecnica una sorte di 007 improvvisato che però è finito nei guai ieri si è svolta un'udienza di fronte al tribunale e c'è stato il suo rinvio a giudizio l'imputato è un titolare di un'azienda di manutenzione di impianti di refrigerazione di Cartoceto accusato di sfruttamento del lavoro gli vengono contestate azioni e assunzioni contrattualizzate con qualifiche inferiori rispetto alle mansioni svolte dai suoi dipendenti e poi orari allungati riposi non goduti compensi inferiori rispetto ai contratti nazionali insomma tutta una serie di problematiche che hanno poi confluito nell'accusa di sfruttamento secondo l'accusa avrebbe collegato poi il suo telefonino all'impianto d'allarme attivando un meccanismo per il quale all'ingresso e all'uscita dei dipendenti lui controllava con appunto il suo cellulare quello che facevano i suoi dipendenti e questo ovviamente non poteva farlo e a fondo pagina vediamo un risarcimento milionario per un incidente stradale che si è verificato nel primo aprile del 2021 a Fossombrone in contromano in rotatoria per il trasporto eccezionale del maxi yacht questo trasporto eccezionale ha causato un incidente in cui è rimasto ferito un cinquantenne di marotta rimasto poi tetraplegico ieri c'è stato l'avvio del processo e la richiesta del risarcimento delle parti civile sono state rinviate a giudizio tre persone beh le parti civili hanno richiesto un risarcimento ingente un milione e mezzo di euro l'uomo dovrebbe pagare questa cifra più 75 mila euro per i suoi due figli minorenni cioè quello ovviamente la vittima dell'incidente 75 mila euro per i due figli minorenni come danno indiretto 40 mila euro per la madre e il fratello sempre per il danno indiretto subito e la necessità di accudire la parte offesa perché poi i familiari dovranno farsi carico di quello che è accaduto appunto alla vittima che ora è nella sedia a rotelle quindi ha avuto una vita radicalmente cambiata un ragazzino si ferisce durante un gioco a Mondolfo soccorso è portato all'ospedale del 118 l'incidente è accaduto a scuola durante l'intervallo è un gioco che è finito male insomma non c'è stata né l'intenzionalità né un'aggressione insomma nulla di voluto è stata una disgrazia però insomma queste cose non dovrebbero accadere le prime cure sono state procurate a Santa Croce di Fano poi il bambino è stato trasportato a Pesaro si tratta di un bambino di circa 10 anni che ieri mattina è stato accompagnato da scuola a casa e successivamente soccorso con il 118 accompagnato appunto aveva una ferita all'addome insomma non si sa ancora di preciso come se l'è procurata comunque se l'è fatta durante un gioco altre notizie per quanto riguarda Senigallia vediamo che il comune ha posto fine alle agevolazioni per i veicoli ibridi quelli che hanno due fonti di alimentazione poche settimane poi pagheranno la sosta l'assessore Regine le tariffe restano identiche in centro parcometri di ultima generazione rimarranno invece le agevolazioni per i veicoli che davvero non inquinano e quindi avranno l'essenzione del ticket ovvero quelli a metano oppure quelli elettrici quelli a metano se sono solo a metano poi perché se sono ibridi ovviamente anche loro pagheranno la sosta e quindi questa è la decisione assunta dal comune di Senigallia apriamo il Corriere Adriatico anche per quanto riguarda la pagina di Pesaro e vediamo come ci si sta regolando sul trasporto pubblico il bus a Ticket Light è una proposta questa che ha assunto anzi che ha reso esecutivo il sindaco di Bari ha veramente fatto crollare i prezzi degli abbonamenti per il trasporto pubblico mi sembra che da 250 euro il trasporto pubblico a Bari costerà 20 euro e questo consentirà di avere un miglioramento della circolazione perché poi più persone prenderanno l'autobus e quindi ne guadagnerà anche l'ambiente però non tutto è possibile perché chi ha preso questa decisione ha la possibilità di avere dei contributi da parte dello Stato ma i contributi non sono finalizzati a tutti sono finalizzati soltanto alle città metropolitane quindi non per le marche e non per il pesarese e ci sono diverse dichiarazioni vediamo qui l'assessore Belloni che dice c'è la bicipolitana e anche lo sharing sta andando bene queste sono le forme di mobilità alternativa quella più dolce Massimo Seri, sindaco di Fano invece dice ragioniamo come Pesaro, Fano e Urbino attorno a un tavolo possono prendere le stesse decisioni mentre Maurizio Gambini scusate, sindaco di Urbino dice come trasferimenti statali le marche Fanalino di coda e si lamenta perché la regione viene un po' distrattata per quanto riguarda i contributi da parte dello Stato Pesaro comunque accelera le ciclabili e Fano dice Seri sta potenziando la sua rete di ciclabili ma per poter incrementare il trasporto pubblico con costi light ci vuole una opportunità che dovrebbe arrivare dallo Stato che al momento non c'è e quindi dovremo fare i conti con i soldi che sono a disposizione Questura a Pesaro condizioni avvilenti e i documenti parlano per noi parla così il segretario del SIULP Marco Lanzi il sindacato che tutela i diritti dei poliziotti appunto degli agenti di polizia il SIULP dice no alla caserma Cialdini rimarcando le attuali difficoltà per i poliziotti sulla caserma Cialdini non è possibile collocare l'intera Questura ha detto Lanzi perché tutto l'apparato non è sufficiente ad ospitare tutti gli uffici ha 4.000 metri i quadri mentre ce ne vorrebbero 6.500 e nel conteggio non si tiene conto di altri alloggi come la palestra, la mensa, il parcheggio in una zona poi più che altro è ad alza densità di traffico quindi difficilmente fruibile appunto dalla polizia che ha bisogno di pronto intervento dopo il sisma di novembre la Questura ha subito quella attuale ha subito danni che hanno portato alla chiusura di alcuni uffici tra cui l'accesso all'ufficio passaporti e l'ufficio volanti con disagi per i cittadini e operatori che stanno proseguendo tuttora ma non solo ci sono disagi per quanto riguarda gli uffici ci sono anche disagi per quanto riguarda l'impiego di personale che potrebbe essere sulle strade che potrebbe controllare appunto l'ordine pubblico e invece è costretto ad assolvere ad incombenze di carattere burocratico come quello degli uffici e qui ci vorrebbero invece degli passaporti e qui ci vorrebbero invece degli impiegati civili e il cosa invece che ancora non arriva raid punitivo identificate le 15 anni che hanno malmenato una loro coetanea vi ricordate nel giornale di ieri vi abbiamo dato notizia di una aggressione avvenuta presso il campus di Pesaro dove due studentesse di 15 anni hanno aggredito non si sapeva perché una loro compagna ma l'hanno insomma aggredita bene insomma l'hanno procurato delle contusioni l'hanno buttata per terra calci, pugni insomma roba abbastanza sostanziosa ebbene il tutto per un ragazzo per un ragazzo conteso l'aggressione nel parcheggio nel parcheggio del campus la studentessa picchiata non vuole però sporgere denuncia e quindi le due ragazze che hanno aggredito la loro compagna se la caveranno questa volta a buon mercato insomma però il problema rimane rimane vediamo ancora la pagina vediamo la pagina di Urbino armi, pistola rubata e denaro un piccolo arsenale un arsenale nella villa finisce in cella un 62enne di Meleto una berretta sottratta a un poliziotto appunto tra l'arsenale si è trovata anche una berretta sottratta anni fa ad un poliziotto armi con matricola a brasa una pistola rubata persino a segni per 120 mila euro insieme a denaro contante questo è ciò che hanno rinvenuto i carabinieri di Urbino in una villetta di Pian di Meleto ragioni per le quali un 62enne di origini piemontesi è finito in carcere a Villa Fastigi insomma un arsenale che non aveva dichiarato e quindi non poteva detenere diamo un'occhiata anche al resto del Carlino e vediamo come montano le proteste perché a Fano di notte c'è un'unica ambulanza e se ci sono due casi di emergenza contemporanea ci sono veramente dei problemi per assistere coloro che si trovano in difficoltà troppi rischi di intervento in contemporanea Ruggeri la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione mentre il sindaco di Fano Massimo Seri dice fino ad oggi siamo stati fortunati perché non si sono verificati i casi concomitanti la situazione però continua a essere preoccupante siamo stati molto fortunati ha detto Seri che fino ad oggi non sia ancora successo niente per questo l'attenzione sul problema potes-fano deve essere mantenuta alta il territorio da coprire è molto ampio e la possibilità di intervento con una sola ambulanza in orario notturno è ridotta al limite una città di 60.000 abitanti con un territorio molto vasto nel circondario non può stare con una sola ambulanza il problema del pronto soccorso del soccorso immediato pensate un infarto che ha bisogno di un soccorso velocissimo ebbene la carenza è un pericolo appunto per la salute di molti cittadini intanto però arrivano 13 infermieri in più sono a tempo determinato saranno destinati a Pergola e a Urbino che più degli altri sono in sofferenza secondo l'azienda sanitaria territoriale e questo è l'argomento di questo secondo articolo a fondo pagina del resto del Carlino anche il Carlino parla del nuovo indirizzo di studi del Polo 3 il futuro e il nuovo corso sull'acqua i diplomati avranno le competenze per affrontare importanti problematiche idrico-ambientali e ottimizzare lo sfruttamento delle risorse in modo ecosostenibile lo ha dichiarato appunto la preside Maria Eleonora Augello e intanto l'istituto va verso allargamento degli spazi buone notizie per il Polo 3 soprattutto per Palazzo Petrucci che sta per essere ristrutturato una nuova alea di Palazzo Petrucci sta per essere ristrutturata da parte della provincia l'immobile è molto ampio è un immobile storico che ora ospita ma lo ha fatto anche in passato è stato un collegio è stato poi un centro studi insomma un immobile che ha questa sua vocazione di carattere culturale ebbene lentamente la facciata è stata rimessa a posto molte parti sono state restaurate sono state consolidate ed ora aspetta la parte posteriore che deve essere ancora resa fruibile per le classi sappiamo che parte dell'istituto ospita anche alcuni allunni del liceo Nolfi Apolloni che hanno dovuto emigrare dall'ex Carducci le due perle del Perugino amministratore in visita a Firenze la delegazione ospite dell'opificio delle pietre dure dove è lo vediamo qui di sguincio lo vediamo qui dove è in fase di restauro la grande pala del Perugino che si trova generalmente a Santa Maria Nuova la Madonna con i Santi la pala Duranti troppi pericoli arriva il limite dei 30 all'ora a Marotta entro pochi giorni nascerà una nuova area residenziale anzi sarà definita perché l'area già esiste a Monte della Statale coinvolta una zona dove abitano circa 2000 persone dunque nascerà così come viene definita una zona residenziale come intesa però dal codice della strada vale a dire un'area urbana in cui vivono particolari regole per la circolazione a tutela dei pedoni regole stabilite direttamente dal comune e tra queste ci sarà un limite per i veicoli di 30 chilometri orari l'importante è fare rispettare questo limite perché poi molti automobilisti derogano impunemente alle norme che sono state prese paralizzato dopo lo schianto chiede un milione e mezzo il cinquantenne di Marotta il cui carroattrezzi venne travolto da un mezzo che trasportava uno yacht mentre stava attraversando una rotatoria vediamo anche la pagina di Urbino esonero dai pagamenti per gli studenti alluvionati questa è una bella notizia che proviene dall'Ateneo Urbinate l'Ateneo giunge in aiuto di chi è stato colpito gli interessanti dovranno presentare una richiesta allegando la documentazione ovviamente la documentazione specifica si tratta di un esonero da un contributo omnicomprensivo sono esclusi l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti con ISE fino a 30 mila euro potranno beneficiare di queste agevolazioni a patto che siano stati veramente colpiti dall'alluvione e dovranno allegare la documentazione a dimostrazione del disagio che è stato subito diamo un'occhiata anche le pagine dello sport siamo ormai vicini alla conclusione vediamo che per quanto riguarda il calcio la vis brevi alla riscossa punti fondamentali domani ci sarà l'incontro con l'Olbia Tonucci verso una maglia da titolare per questa nuova partita Giega in panchina il mister loro sono una squadra aggressiva e quindi bisogna rinserrare le fila la vis ha attroversato un periodo non molto bello e quindi deve risalire la china della classifica con il pineto l'Alma Fano si affida alla cabala non può fare altro i Granata sono l'unica formazione che finora ha sconfitto i Biancazzurri alla seconda giornata di andata quindi potrà farlo anche nel ritorno grazie allora alle reti di Padovani e di Broso in promozione occhio al campo di Sant'Orso arriva il Montecchio Urbani invece riceve il Gabicce il Villa con la Biagio nell'eccellenza il Gallo cerca il risultato Fosso e Urbino vogliono conferme prima e seconda giornata Clu con il testacoda Falco Mercatellese e qua abbiamo una serie di risultati e di partite di diverse diverse squadre per quanto riguarda invece il basket vediamo qui il titolo che riguarda la VL Scafati è un crocevia decisivo per una griglia migliore in Coppa vincendo la VL può arrivare addirittura quarta se perde rischia invece di scivolare anche al settimo posto vediamo anche altre due articoli per quanto riguarda la Vigilar per la volley a tre maschile la Vigilar Fano eccola qua l'articolo la Vigilar Fano va in missione a San Giustino vuole scacciare a tutti i costi l'ombra del Pineto mentre per il calcio a 5 il Pescara passa facile a Pesaro Ita Service scrivellata da tre reti e per quanto riguarda la Megabox con Scandicci per aprire la porta playoff le Toscane si presenteranno con la nuova regista Yao Di il coach Biancoverde ci prepariamo con la consapevolezza che incontreremo una squadra molto molto forte e dunque una partita questa tutta da vedere e da giocare ovviamente ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 e intanto vi auguro un buon weekend oltre che a una buona giornata grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto